Ciao, Nico. Allora? È andato, è andato. Fammi un caffè, per favore. Ma sarà che io sto invecchiando? Allora, sarà che ho perso l'allenamento, ma un altro po' mi cagavo addosso. Morca Evo. Mi hai aperto il conto, sì? Sì, sì, con la banca è tutto fatto. Ma la cosa che mi preoccupa è che il documento regga con la polizia. No, 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 regge, regge, regge. Per una notte regge, amore. E adesso... Sotto con Chantal e... Speriamo. Che Dio ce la mandi buona. Sì, speriamo. Sì, speriamo. Fermo! Fermo! Gira dentro, prendiamo in mezzo. Eccolo! Mi dai un passaggio? Ma lei chi? Polizia, presto! Bisogna saper perdere. Perdere è un accidente, Maurice. È la seconda volta che cerca di uccidermi e tu vuoi lasciar perdere? No, resta come stabilito. E finché sparano a me e non a Eichmann, il piano deve procedere. Sono stato chiaro? Ah. Ora vado a prendere Chantal. E prosegue tutto come d'accordo. Un'abbai. Un'abbai! Un'abbai! Un'abbai!